ancora ciao a tutti ragazzi ragazze io sono jonathan e ben ritornati in questo nuovo fashion blog oggi vedremo i due video dei primitivi indiani che costruiscono come sempre su youtube ho visto che un terzo canale un signore che c'è un primitivo che con il suo canale youtube che si chiama primitivo survival school che lui manda i video lui manda anche i video degli altri primitivi ha mandato un video degli altri primitivi però è stato mandato anche un altro però non so se è stato mandato da lui e oggi faremo la reazione di questi due video ok però spero che non esce un altro video adesso mo che ho finito questa reazione degli altri primitivi indiani beh può essere possibile e comunque youtube non si sta cliccando ah ecco allora vediamo subito però il mio canale abbiamo ricevuto se ho ricevuto 63 iscritti vediamo 63 no ancora 62 vabbè pazienza e comunque dove sta il video tanti video vengono mandati ogni ora e questo è il secco questo il secondo vedi hanno primitivo tecnologi idea però ce n'è un altro che è stato mandato c'è un altro che è stato mandato hanno sempre primitivo tecnologi idea vabbè guardiamo questo di 25 minuti e 51 secondi quindi quasi 26 minuti e vediamo subito sempre senza tirare perché se non il canale si blocca allora ci sono dei quadratini gialli piccoli e questi quadratini fanno venire le pubblicità e per farli mandare via bisogna fare così ecco 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 questo ecco qua mandiamolo 1 2 3 4 5 coccodrillo attacco coccodrillo dopo guardiamo qua stanno a costruire il coccodrillo oh che figo ah ho capito ma sono gli scivoli sono gli scivoli quelli là del coccodrillo loro devono costruire una piscina di coccodrilli e quei coccodrilli sono cinque sono gli scivoli cioè sono proprio gli scivoli prima devono prendere il coccodrillo vero perché lo devo mangiare perché loro mangiano anche il coccodrillo come i primitivi quelli vecchissimi dell'era anno zero attenti non morderevi avrai la coda ha presso per la coda che schifo ah ma ha scattato uno ah dai ma dai ma che fate ma perché lo andavate a mandare in acqua vedi riesce adesso riesce e guarda sono tante foglie alte bisogna stare attenti perché a volte ci sono delle foglie che sono delle piante alte come questo e la ci sono sta ci possono sta i coccodrilli ecco perché mai la città la foto la foresta indiana adesso devono togliere le foglie che devono fa ah devono togliere ste foglie ecco che devono fa allora hanno presso perché l'hanno prese è la miseria dei mini alberi di natale guarda siamo a dicembre che il periodo di natale a costruire a costruire ah perché devono fare spazio per la loro costruzione e in effetti lo fanno lo stanno a fa' ah se vabbè no com'è possibile una buca così gigante no è incredibile nella foresta indiana si può costruire si può fare le buche si possono fare è ok ah devono prendere anche lo strato di terra lo strato di terra e se lo portano indietro alcorso alcorso ok ok ecco spè ma ci hanno messo una giornata intera mi sa proprio che ci hanno messo ci avranno messo qualche giorno una giornata intera ecco qua ecco adesso devono scavare poppia Ciro scavare 6,7 7 ecco che scavano la terra, il terriccio ci avranno messo tutta la giornata vedi stanno a sudare che schifo che schifo ok ecco che lo danno a pare lo danno a pare lo danno a pare acento builder acento builder c'era una scritta si è scritto acento builder io non me ne sono mica accorto il canale youtube si è scritto acento builder ecco stanno a scavare ok ok ma allora si fa giorno dopo si fa pomeriggio con le nuvole dopo pomeriggio con le nuvole sole con le nuvole con le nuvole sole senza nuvole sole senza nuvole sole con le nuvole sole c'è ma perché ah ma loro sono ah loro dormono là quindi ah wow eh babau uno uno due tre quattro cinque sono cinque primitivi indiani ah già devono costruire là anche ma come fanno a fare la testa ah no ma è quella la testa allora ecco perché devono bucare là sennò come l'avranno fatta di bastoni dopo la devono pitturare mh 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 ah adesso devono piegare ragazzi come voi lo sapete già a me non mi piace parlare a me non piace parlare perché sennò mi si stacca la voce tipo e devo ingoiare la saliva tipo ne è un piccio mio che c'ho che perché che è successo che è successo ci avranno impiegato un giorno tipo ecco qua adesso stiamo sporcando anche la terra mamma mia che schifo cesto di terra l'hanno fatto il coccodrillo è tutto è tutto ah con le canne tipo con le canne di bambù adesso li versano li versano la il cemento il fango addosso al coccodrillo che non è ancora pronto dopo lo pitturano e dopo però anche l'acqua mi ci deve il cemento deve essere a tutto mi sa che ci hanno impiegato alcuni giorni però è probabile se no che allora devono ancora fare questi qua ma si vede che hanno impiegato tanti giorni tre giorni allora raccontiamo di un film allora il 31 dicembre del 2020 uscirà un film che si chiamerà Abiancé e durerà 30 giorni 727 ore però in realtà è un altro di un film che dura più di un mese quindi il film quindi il film più lungo del mondo in realtà il film più lungo del mondo quindi non è Abiancé è uno che che non mi ricordo come si chiama però dura 865 ore hanno già creato il coccodrillo hanno creato il ballo ecco il coccodrillo coccodrilli hanno che hanno già fatto hanno già fatto il coccodrillo quanti quanti giorni però ci avranno messo magari non so cioè loro hanno la scienza primitiva ci hanno messo pure i denti ancora compare questa scritta la scritta ancient builder purtroppo non posso mettere non posso mettere l'effetto speciale che fa avvicinare le cose tipo la scritta quindi io voglio avvicinare la scritta ah ve lo indicherò qua qua c'è scritto ancient builder è davvero questa cosa è incredibile davvero ragazzi ma intanto che stiamo qui a guardare la mia bella fascia che stanno male stanno male siccome stiamo a guardare qua la mia faccia che ho ingrandito andremo su allora ma si può ingrandire la webcam si si può ingrandire si può ingrandire sempre di più ah non si può ingrandire più vediamo si ripicciolisce ma mangiate da un'altra parte la dimensione questa va bene la metto qua stanno a mangiare la mela sette demone ecco la mela che schifo quando mangiate il rumore si sente così fa gli ordini lui state qua voi se no vi ammazzo la faccia se no vi 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 ammazzo la famiglia eh no è una cosa brutta primitivo come mi permetto come mi permetto allora adesso devono colorare la pittura che trovano in giro eh ah il cemento giusto giusto perché non ci ho pensato prima perché non ci ho pensato prima allora perché devono devono pittura se ci mettono l'acqua dopo senza cemento l'acqua fa così shhh questa cosa l'avevo detta per due volte tipo l'altra volta due volte troppo incredibile io come voi sapete io non so che video posso fare io non so che video fare o faccio il video di questo o o faccio il video o faccio il video della scuola quella del professore però non so se va bene però quello mi chiede le domande dopo quindi potrebbe essere figo però il professore deve mettere un'altra maglietta perché se no quella è la mia o devo fare la serie questa qua dei primitivi indiani oppure qualche video la bottle flip challenge o magari di altre challenge sempre quella facciamo oppure qualche video con la musica che racconto una storia sì tipo le storie vi ricordate quella serie che non so se utilizzerò oh no ma adesso devono pitturare le cose le tegole tipo ma la terra allora non la non la non la non aggiungono il cemento nella terra quella rimane così no sì perché no ah no prima devono pitturarlo di grigio dopo con la pittura marrone cioè quella gialla cioè verde però la terra no solo la parte della piscina vedi col cemento ok adesso è tutto cemento adesso vedi adesso devono pitturare tutto verde beh ci vorrà un tempo però la pittura vada da tutte le parti tanto a me non mi importa non mi importa se posso vedere la terra io la posso vedere o non la posso vedere ecco ho pitturato a stare una pittura ma anche la bocca giusto anche gli occhi ma è vero ma che il sangue quello perché c'è anche un occhio che gocciola tutto sangue ok l'acqua adesso l'acqua nella scalavano perché devono mettere l'acqua ecco sono andati nella parte dove c'è l'acqua allora ecco qua che sono andati nel torrente adesso collegano l'acqua con le canne di bambù e così arriva dalla piscina ecco adesso collegano le canne di bambù là ci mettono l'acqua così si vedi la collegano tutte le canne di bambù là ci mettono l'acqua così va a finire la piscina e non non perché se noi lavorano faticoso è prendere l'acqua vedi prendere un secchiello mettere l'acqua prendere l'acqua e metterla così perché si faceva una volta alcuni mesi fa si faceva tipo prendi l'acqua riprendi l'acqua col secchiello invece così è più facile così non si stancano oh che batti le mani lo so che sei felice ma avrai costruito altre 3000 case altre 3000 case vengono costruite dai primitivi indiani quante case ci sono in tutto nella foresta dell'Ighia però possono essere anche australiani possono essere primitivi australiani e primitivi indiani perché si capisce che sono australiani perché hanno tipo la faccia come i giapponesi e loro ce l'hanno e gli indiani non ce l'hanno molta molto molto in India quasi si comincia a migliorare in Asia però ma se sono 5 a me ne sembrano 1880 questi primitivi 2999 9999 ecco adesso il lago di pipì sento l'odore di piscio e adesso devono mettere le decorazioni è vero la terra me lo ricordo adesso la terra non deve rimanere perché devono mettere anche il prato come decorazione come pavimento ecco ecco che decorano ma nei dormitori ma nel luogo dove dormite non lo mettete l'erba la mettete ah no volete mettere uno due tre quattro il quinto sta là dietro ecco sta sopra adesso provano lo scivolo ah no si avranno messo tipo tre giorni se non mi sbaglio ecco adesso provano lo scivolo ah no ma che devono fa perché perché vanno là che devono prendere qualcosa qualcosa che non mi ricordo eh erba ah devono mangiare ho capito eh ma non si fa il bagno dopo aver mangiato l'importante è che non mangi pesante e che non mangi troppo perché se mangi troppo molto e se mangi pesante troppo pesante cioè se mangi pesante pochissimo ti farà male lo stesso ma se mangi molto ti fa male di più ma se mangi pesante la roba pesante è molta ti farà ancora ancora più male puoi morire si può morire perché l'intestino è caldo con l'acqua fredda con l'acqua gelida bisogna aspettare tre ore di solito si aspettano tre ore e di solito due ah no ah devono accendere il fuoco ma io non ci penso a questo step l'ultimo step è sempre accendere il fuoco come ho già detto come ho già detto decimo step o primo step a volte il primo ah che dovete prendere ah che dovete mangiare dovete ancora mangiare voi ma che state facendo ma che ma che ah ma devono piantare quelle cose quelle canne non ho capito niente allora il loro lavoro non lo capisco un altro non lo capisco che cosa devo capire adesso qua oh l'hai preso in pieno fratelli hai preso il muro vado lì non lo so dire vado lì magari non lo saprò dire mai oh che belle decorazioni mo mi viene da fare vedere vedi due allora ecco qua no vabbè si stanno a tuffare se stanno e lo fa anche lo scivolo a me mi sembra fredda quell'acqua cioè già a guardarli mi viene il freddo perché è fredda l'acqua già a immaginarla ah ma stanno a nuotare uno dietro l'altro uno dietro l'altro stanno a nuotare questi imbranati perché è muta ma di nuovo come l'altra volta è muto si è mutato il video ma che voi vi ma che voi vi sentite mutati voglio ma voglio capire voglio capire se vi sentite mutati ma ma entrano dalla chiappa allora lo scivolo si fa dalla chiappa posteriore perché entrano proprio da quella è che applaudite applaudite vostra madre applaudite che presto morire l'agent bui unsent bui wilder wilder unsent bui ok vabbè mi sa che l'ho pronunciato nel modo giusto ecco oh ma piano eh ma che oh ma che schizzate l'acqua in giro ah ok ah adesso mangiate ah giusto adesso mangiate dopo andate a dormire ah no il fuoco ancora il fuoco ah i marshmallow ma che arrostiti marshmallow sta per arrivare il quarto giorno aspetta mo finisce sto video e guardiamo quell'altro ah è finito così senza l'altro finale ma non me ne frega niente delle pubblicità ma non ci ragionate anche voi anche voi dovete creare il coccodrillo ma ma è la stessa cosa perché anche loro devono creare il coccodrillo vabbè che tanto è corto il video hanno creato la stessa cosa un cocco ho visto un coccodrillo che schifo scendere l'ho visto scendere dallo scivolo coccodrillo magari sarà suo figlio ah eh che fate adesso acchiappate anche voi il coccodrillo eh c'è me lo immagino guarda io immaginerei sicuro allora la webcam la mettiamo qua però eh la mettiamo qua eh che costruite ribello che cosa costruite ah costruite anche voi allora eh hanno messo già si è fatta notte si è fatta già notte come come impossible come è possibile che si è fatta già notte ho capito che è difficile scavare le buche ma mica la terra è così dura voi ce la fate vi siete abituati voi anche il fuoco accendono perché notte guarda intelligenti come sono no ma quanti giorni ci avete piegati voi voi siete più scarsi wow già è arrivato il secondo giorno è passato il primo giorno allora primo giorno secondo giorno primo secondo non lo so primo non so se è di mi confondo tra secondo e primo se passa un giorno passa un giorno in effetti è passato un giorno quindi è il secondo giorno opri vabbè come l'epoca di dio il mio video sta durando mezz'ora e questo è un segno proprio perché avete la gonna cioè ma siete i primitivi i primitivi che hanno la gonna invece che il pantalone e che è sta musica ah no ma quindi è tanto il lavoro eh la 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 lolo ingrandisco di nuovo la webcam no la rimpicciolisco ah ecco qui ecco adesso ma così voi non vedete la metto qua guarda metto lontano e metto qua ecco qua che stanno a fare questi allora la web la webcam la metto qua ok la metto qua l'ho messa qua a posto salve signora anche loro anche loro devono piegare le cose ma io lo avevo capito subito guarda perché avevo visto quell'altro video di primitivo non so come rimpicciolire la mia webcam ecco così si fa così guarda si fa così ecco qua un altro coccodrillo e tan 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 continua continua signore che ci sono dei dei ci sono dei i pianeti che in questa galassia ci sono dei pianeti simili alla terra e alcuni possono ospitare la vita invece altri ci vivono proprio le persone ci vivono proprio le persone c'è è una galassia grande tan tan è molto grande e ma è poi era e da da dall'inizio della galassia fino alla fine il viaggio è tipo di 3 milioni di anni quindi non so me lo sono inventato non so se può impiegarci non so se si si può impiegare 3 milioni di anni per arrivare dall'inizio della nostra galassia fino alla fine fino alla fine in tutto di galassia ne sono più di 100 miliardi e più vuol dire che sono proprio di più quindi io credo che ne sono 333 miliardi 333 milioni 333 mila 333 galassie e io credo così l'universo tanto è grande si creano delle galassie ogni secondo ogni secondo si creano delle galassie cioè non ogni secondo mi sa ogni giorno ma ogni giorno si creano delle galassie oppure ogni mese ogni mese ogni 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 anno ogni vabbè non lo so non so quando se come si creano le galassie se ogni due giorni ogni dieci giorni ogni due anni ogni tre anni vabbè 20 mila anni ma il video è così corto ecco perché devono con loro hanno già finito ma ecco ma ecco qui hanno già finito ma io non me l'aspettavo chi se lo ma chi se lo aspettava basta basta non ci credo non ci credo il decreto eh ah devono ancora costruire ah devono ancora dipingere però è un po' diverso cioè non è tanto uguale è un po' diverso un cocodrillo dall'altra parte a un'altra parte è come se fosse un'attrazione i primitivi sono per la piscina ah non ho finito quanti giorni si avranno messo che devono fare ma devono mangiare ah devono accendere il fuoco perché che devono ma che devono fare adesso che devono fare perché stanno annodando dei bastoni che devono fa' hanno creato tipo un cubo ah la zattera è la zattera che serve per quando il coccodrillo sta agio è come l'attrazione quello della fa' c'è un'attrazione di un acquario dove tipo è un parco faunistico zoologico dove c'è l'attrazione che vieni messo in una gabbia ok in una gabbia dentro un animale pericoloso oppure dentro un tipo una gabbietta con un coccodrillo dove ti immergono nel mare e nel mare c'è in quel lago ci sta il coccodrillo tipo la piscina eh ti immergono nell'acqua ed è anche un'altra attrazione di vetro però vedi e c'è neanche un'altra in Francia dove tu vieni proprio immerso nell'acqua proprio non con la gabbietta proprio senza e questo è un esempio e c'è anche uno zoo perico lo parco zoologico pericoloso dove devi toccare proprio gli animali anche selvatici e ci sono degli zoo che sono pericolosi tipo allo zoo di San Diego eh allo zoo di San Diego ci sono molti animali che stanno che stanno nelle gabbie nei vetri nei recinti però in realtà ci stanno però dopo eh devi andare tipo nel safari ma perché la pubblicità se non ci sono i puntini guarda che non me ne frega niente e poi è la c'è che sto dicendo è è proprio uno zoo safari anche loro devono fare il torred allora uno zoo dove c'è un safari però non è tutto con le gabbie è tutto coperto ecco però è però il safari non è grande invece a Singapore puoi passeggiare con le giraffe con gli elefanti tipo e puoi andare tipo a mangiare eh con i lemuri con i rat no con i rat ti fa schifo e ci sono anche degli zoo dove degli zoo dove noi stiamo in gabbia e gli animali stanno liberi come uno zoo safari adesso ci devono tuffare che devono fare aaaah il coccodrillo ci manga eeeh aspe eeeh gli manca il coccodrillo gemma ah ma è diverso proprio diverso eeeh gli altri entravano dalla chiappa eeeh si dalla chiappa a destra e questi entrano proprio dal fondo schiena cioè no non dal dal culo cioè proprio da una schiena però proprio un po' sotto dalla coda e dal dorso ma la gabbietta ma allora questi stanno male ma stanno proprio male andiamo bene proprio bene e basta uno due tre quattro ma non è che sono quattro ma il coccodrillo non è che sono quattro loro ne so cinque ma dove è il coccodrillo dov'è non è che vi morde ah nella gabbietta devono andare vedi chi devono andare ah ma è pericoloso ah ma è pericoloso ah alza i piedi ma per ma alzate i piedi ma alzate i piedi ma perchè non alzano i piedi che dopo vi morde il coccodrillo però perchè ogni quando faccio ogni video che faccio di mobizen devono uscire sempre altri video non ne posso più eh allora allora dopo faremo anche la bottle flip challenge quindi oggi usciranno due video mi è venuta un'idea facciamo che o registro il video di mobizen che magari o faccio dei tutorial e allora o il video di mobizen mi servono o per fare la reazione a qualche video tipo i primitivi indiani i tubi continued i meme i tiktok oppure anche le gif vabbè uguale insomma e anche la prova a non ridere e invece anche i tutorial invece il video della scuola se faccio il video della scuola vuol dire che devo fare il professore tipo uno fa il professore tipo io e mi fa il professore mi fa le domande tipo e io comincio a rispondere sbagliato e dopo si inizia a ridere e il terzo e il terzo video che potrei fare del giorno è la bottle flip challenge il quarto invece non potrebbe essere una challenge ma potrebbe essere un video della bibbia si vi ricordate che quando avevo 3 o 4 iscritti quando avevo pochissimi iscritti tipo 3 o 4 io ho portato un video della bibbia dopo l'ho riportato di nuovo e adesso ho deciso di rifarlo tipo qualche giorno faccio il video dove leggo la bibbia e magari dove faccio anche il rosario perché è importantissimo adesso stiamo alla prima domenica d'avvento e vabbè d'avvento ecco e si chiede di fare i lavoretti dalla chiesa qua e vabbè e comunque nel e comunque e comunque vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina lasciare like e scrivere qua sotto un commento e grazie a tutti per aver visto il vlog il daily vlog mi sbaglio sempre nel frattempo è meglio che finisca qui il vlog è meglio che lo chiuda spero vi sia stato utile e piacente e da noi tutti ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze finisci hands adesso devo aggiungere anche video da fare della bibbia allora video della bibbia anche rosario della bibbia bibbia lo faccio puntato o rosario della bibbia della o rosario il rosario lo punto oppure il video della scuola e queste tre allora uno il video della bibbia uno il video della scuola e uno il video della bottle flip challenge che forse smile joelle questi due ancora non l'ho cancellato perché non l'ho fatto ancora e comunque è per è per la seconda volta che faccio il video della bottle flip challenge e questa potrebbe essere la terza allora video della scuola e da tanto tempo che non lo facevo vi ricordate il video della scuola non può essere ripas non può essere passato sono passati un po' di mesi tipo tre mesi avevo cominciato il primo non mi ricordo due un due mi sa tre tre o due vabbè non mi ricordo e comunque vabbè rifacciamo sempre grazie a grazie ancora a tutti per aver visto il video di nuovo ciao